ciao a tutti sono qui col mitico ale ciao a tutti i pizzellini vediamo il negozio non abbiamo ancora visto abbiamo allora sway il balletto quello da fare in due nuovo bello poi lucido belli però sono poi da miente fresca da miente fresca bello questo cazzo con la mente con il cervello forte e ale si sta come skin è simpatico poi bande all masquera metallica vabbè questi abbiamo già visti poi artigliere sgargiante calca fiamma sì questo me lo ricordo vabbè il gangnam style che lo conosciamo non ce l'ho io cuore vero mincato c'è dito viva sti capi poi pugile ombra ambio cos'è va bene non si posso sentire e poi tutto il resto che abbiamo già visto devo dire una cosa maiale chi non mette il codice pizze squadre chi non si studia di che non è qua purtroppo o chi non mette lai che deve schiacciare i ricicoli e cagare su l'ortiche bene ale bravissimo facciamo un balletto in dedicazione per giudy dedicato a giudy e al povero crime anche a lui per me intendo giudy tutte e due ovviamente e allo scroccone di doggo anche per lui bene il resto sono tutte cose che abbiamo già visto allora eccomi qua questo balletto è per tutti giudy crime doggo mettere uno che si sente la musica ma io la sento la musica del tuo e io no va bene ciao a tutti i ragazzi mi raccomando a tutti e domani quando farai live ciao